Buonasera, ho chiesto di intervenire perché ero interessato al tema, ho sentito una serie di osservazioni con cui ero in accordo e altre in disaccordo. Partivo da un paio di cose che aveva detto Roidi perché erano quelle che più mi hanno colpito portandomi in direzione opposta ed alcune osservazioni sui dati di audience che abbiamo riferito prima. Parlare oggi di programmi che hanno fatto 16, 15 milioni di ascolto in un momento in cui non c'era Sky, il consumo televisivo via internet era molto diverso e l'auditel era l'unica fonte di riscontro probabilmente a valore come non a valore. È giusto dire che la RAI nei momenti di crisi è quella a cui gli italiani vanno a guardare per avere autorevolezza ma è vero che di fronte alla proposta di tagliare 150 milioni di euro nessuno ha detto vado in piazza per salvare la RAI mentre invece per un'orchestra c'è anche chi si interroga e gli dà spazio. Quindi questo vuol dire che probabilmente la RAI intanto ha sbagliato. Parto dalla missione. L'estate scorsa la BBC ha aggiornato la famosa triade di parole aggiungendo una quarta to share, condividere. Quel condividere sta a significare per la mission della BBC l'importanza di non considerarsi autoreferenziali di farsi capire da gran parte del pubblico, da quel pubblico che magari è più interessato all'informazione che è online all'informazione delle tv private che è più accattivante. Quindi nel codice dei giornalisti ci sono dei suggerimenti per usare i social media non c'è nessun divieto, quindi ognuno è libero, chiaramente risponde poi delle sue azioni. L'azione che fa la RAI in questo senso è quella di togliere da YouTube l'archivio storico. Nel momento in cui tu togli il tuo archivio storico dal punto di fruizione gratuita che usano quasi tutti i giovani stai scegliendo di non far più parte della costruzione di memoria di un paese. E scegliere di non costruire la memoria e lasciare l'interpretazione dell'incidente occorso a Mattei piuttosto che della tragedia del Vaillant alle ricostruzioni di Chiunque vuol dire abdicare al proprio ruolo culturale. Se tu abdichi al tuo ruolo culturale vuol dire che stai rinunciando a una cosa che diceva nell'anno in cui nasceva la RAI un sociologo che però lavorava allo Svimez e non si occupava di televisione. Giorgio Ceriani sebregondi, bisogna continuare a cercare per continuare a capire la società italiana. Questa tensione etica non la vedono i nostri giornalisti della RAI. La maggior parte dei giornalisti della RAI non si cura minimamente del fatto che il vicepresidente di Forza Italia ritenga di utilizzare Twitter per attaccare una ragazzina dandogli della grassa e della drogata. Non c'è nessun intervento, non c'è nessuno che porta un microfono di fronte a questa persona. È una cosa che fa Gazebo su RAI3. E Gazebo è un programma che paradossalmente vive sui social. Probabilmente cosa succede? C'è uno spostamento dell'informazione scritta a rimorchio di Twitter e i giornalisti diventano dei follower, non sono più operatori culturali, non fanno lavoro culturale. Usano oggi Twitter come dieci anni fa utilizzavano le agenzie, cioè per fare i titoli, senza approfondire. A fronte di tutta questa dinamica ci si incista sul ruolo di servizio pubblico. Un ruolo di servizio pubblico che vede gli uffici di corrispondenza. Sono stato a Londra un paio di volte con dei amici giornalisti, andiamo a cena all'Istituto di Cultura, ho 35 anni, quindi ho fatto un po' di cose, e c'è il corrispondente RAI, Cavalera per il Corriere, altri 3-4 che guardano la BBC, leggono un giornale e decidono come fare il pezzo del giorno dopo. Nessuno si accorge del movimento che c'è in Scozia sul referendum. Una realtà come Vice, che in Italia gioca soprattutto sull'intrattamento satirico su internet, è stata l'unica a fare una videoinchiesta sull'Isis, cosa che la RAI non ha fatto fino ai primi omicidi. Quindi c'è un'assenza di ricerca, un'assenza di voglia di capire. Perché? Perché il canone è dato, a fronte di quel canone dato si chiede una percentuale di presenza tramite l'osservatorio di Pavia, e non c'è nessuno che alla fine pensa di rispondere a quel pubblico che forse è l'editore di riferimento reale. Questo accade perché per assurdo con il pluralismo ci immaginiamo una ripetizione in lo schema parlamentare, e quindi oggi non c'è RAI un programma come la Gabbia, che per me è assurdo, perché quella parte che è il grado zero di scrittura televisiva, come ha detto Aldo Grasso, dimostra comunque che ci sono dei rancori nella società, un populismo rabbioso inespresso. Se tu lo lasci fuori dalla RAI, dai a quel populismo la possibilità di fare la vittima. Quindi non lo metti a confronto con ben altro. Non c'è il sabato sera o la domenica sera un programma di informazione. Non c'è da parte della RAI la ricerca di sperimentare piccole cose su internet. A Saxarubra, a ReNews, c'è un corridoio lunghissimo con 50 computer che sono quelli della redazione web di ReNews. I 50 prendono le ANSA e quasi tutti le ricopiano. Non ho visto ancora un ebook fatto da dieci giornalisti RAI che hanno detto proviamo ad affrontare un tema e regaliamo alla collettività questo tema. Una RAI che si comporta così, che si ripiega, che non cerca l'etica, rischia di essere cancellata. Una delle esperienze più curiose di finanziamento del servizio pubblico è quella che c'è in Nuova Zelanda, dove quel che accadeva dieci anni fa e è rimasto immutato, è che il canone va a dei programmi considerati di servizio pubblico. Questi programmi possono andare in onda sulle reti pubbliche come sulle reti private. E c'è poi una giuria popolare, composta in parte da professori, esponenti agli enti locali, e a parte da cittadini estratti, che decide quali sono stati i programmi meritevoli. Immaginare che una parte del finanziamento pubblico, in una sorta di competizione virtuosa, vada assegnata in questo senso, potrebbe probabilmente aprire molto di più la RAI rispetto a qualsiasi legge di autoriforma. Probabilmente, avendo un azionista non al 51% ma al 99,56% che è il Ministero dell'Economia e Finanza e l'altro 04% è la SIAE, dovremmo fare una cosa diversa. Senzitutto, ridiscutere quella quotazionaria e pensare se non sia il caso di assegnarne una parte al Ministero dei Beni Culturali, visto che è la prima azienda culturale del Paese. E dall'altro lato, chiedere di avere dei profitti economici con un codice etico minimo da rispettare e intervenire solo una volta all'anno per chiedere alla RAI dove è arrivata e cosa ha fatto con quei soldi. Chiaramente è una scelta che vuol dire ridurre una parte del proprio potere. Ma ridurre una parte del proprio potere diventando editore. L'ultima cosa che mi ha fatto pensare è questa. Qualche anno fa c'era una bellissima ricerca e con l'ufficio Studi Rai abbiamo visto di Cortelazzo, un linguista di Padova. Il linguista analizzava un corpus di lemmi entrati nel dizionario e vedeva quali arrivavano dalla televisione e quali arrivavano dai giornali. Mi sarebbe piaciuto aggiornarla ogni cinque anni vedendo il contributo della RAI o della televisione più generale in termini di nuove parole. 20.000 euro da dare all'Accademia della Grusca per questo erano ritenuti una cifra elevatissima. Quest'anno quasi tutte le parole entrate nel dizionario arrivano da Twitter. Tutto qui. Applausi con una sola amenda. Una che cita un sociologo svimez semisepolto il cui cognome poi torna nell'efficienza delle Brigade Rosse ma questo faccio finta di non ricordarlo. Deve però sapere che sul grado zero non si cita Grasso. Fai dieta su questo. Bene.